Comincia la rivoluzione in casa Juventus ed è la Juventus stessa ad annunciare tramite il proprio profilo Twitter che Paratici lascia. De conseguenza, siccome ho tantissime cose da dirvi in merito e andremo a toccare una marea di tasti, vi saluto immediatamente. Ciao e bello a tutti da me. Mi piace, mi raccomando. Per supportare i miei contenuti iscrivetevi e attivate la campanella così non vi perdete mai le notifiche ogni volta che pubblico un nuovo contenuto. Vi ricordo che anche un secondo canale YouTube di calcio completamente parallelo a questo e che lì tutti i giorni stanno uscendo le mitiche bombe di calciomercato o anche un terzo canale YouTube non di calcio. Trovate tutto in descrizione oppure cliccando semplicemente qui. Juventus, sono anche sintonizzato su Sky Sport, Fabio Paratici lascerà la società. L'annuncio del club sui social, ve lo vado a leggere immediatamente, lo commentiamo insieme e poi andiamo a toccare anche altri discorsi che ovviamente riguardano sempre l'organigramma della Juventus per la prossima stagione e fate attenzione al futuro allenatore della Juventus. Non ne parliamo. Ovviamente se volete esprimere il vostro parere potete come sempre farlo qui sotto nei commenti. Dopo 11 stagioni di lavoro intenso, di vittorie e di grande passione sul campo e dietro alla scrivania Fabio Paratici, Managing Director Football Arena della Juventus, che bello parlare così, lascerà il club. Il suo contratto in scadenza il 30 giugno 2021, quindi praticamente prossimo alla scadenza, non sarà rinnovato. Il dirigente bianconero e il presidente Agnelli si sono incontrati oggi allo Juventus Headquarters della Continassa e hanno deciso appunto che il matrimonio non può proseguire. Fabio Paratici lascia un'eredità importante. Si dice che il sostituto molto probabilmente sarà Cherubini, quindi una scelta interna. Vi leggo anche questo discorso su cui secondo me c'è tanto che possiamo analizzare. Il cambiamento era nell'aria e probabilmente è stato solo posticipato di un anno. Già la scorsa estate infatti erano state poste le basi per il soppasso interno di Federico Cherubini, che dopo un anno di transizione è pronto a prendere le redini dell'area sportiva. gestendo questa delicata estate di mercato, lavorando al fianco di Giovanni Manna, ora DS Under 23 e Matteo Tognozzi, ora capo scouting, anche loro sono in scadenza di contratto, da qui a fine giugno verranno rinnovati. Questo è quello che dicono. Per quanto riguarda il futuro di Paratici ci sarà tempo, può decidere perché sembra che abbia parecchio mercato, sembra che siano tante le richieste, soprattutto dall'estero, quindi non resterà a bocca asciutta probabilmente. Di sicuro il dirigente bianconero gode di una grande stima sull'intero panorama internazionale, il Bayern Monaco pensa a lui per il post Saliamizic. Dalla Premier ci sono almeno due o tre club di primo piano interessati a lui, che pure se confermata la fine dell'avventura bianconero, confermata ovviamente, potrebbe anche prendersi qualche mese per staccare la spina e ritrovare le giuste energie al termine di una stagione in cui per un motivo o per l'altro è successo letteralmente di tutto. La Juventus fa questa scelta per un motivo in particolare, rivoluzione. Visto che sul campo ovviamente non sono riusciti a riconfermarsi sui livelli della scorsa stagione e visto che già questa rivoluzione in realtà è cominciata dalla passata stagione perché la scelta di prendere uno come Andrea Pirlo senza esperienza sulla panchina della Serie A hanno colto la palla al balzo per rinnovare perché come è normale che sia quando termina un ciclo e credo che il ciclo precedente della Juventus sia assolutamente terminato, lo abbiamo visto, ripeto, sul campo proprio in questa stagione, bisogna rinnovare per cercare di ritrovare magari anche a livello mentale quel qualcosa che è venuto a mancare quest'anno. E dobbiamo però entrare anche nel merito delle altre figure della dirigenza. Si dice che potrebbe lasciare anche Nedved, che quindi Paradici sia solo il primo anello di una catena e la situazione potrebbe continuare. Si parla di rinnovamento anche di calciatori, si parla di tanti calciatori possibili partenti e adesso andiamo a toccare due o tre tasti molto molto interessanti, ma dobbiamo anche toccare ovviamente il tasto più importante, quello dell'allenatore. Se fino a qualche giorno fa, con il raggiungimento dell'obiettivo Champions, obiettivo minimo stagionale della Juventus, si parlava di una possibilità di permanenza di Andrea Pirlo proprio per dar vita a questa continuità, ebbene Andrea Agnelli starebbe vacillando, non è molto convinto di far proseguire Pirlo sulla panchina bianconera. Quindi si stanno riaprendo dei discorsi particolarmente interessanti e ragazzi lo riporta anche Sky Sport, c'è ancora forte il nome di Zinedine Zidane, che probabilmente lascerà il Real Madrid, ma la situazione economica è particolarmente, insomma, uno come Zidane chiede parecchi soldi, dall'altra, dai notizia di ieri sera, sempre Sky Sport e sempre ovviamente Gianluca Di Marzio, non mi veniva il nome, la Juventus starebbe clamorosamente pensando di riprendersi Massimiliano Allegri sulla panchina. Con lo stesso Allegri che in realtà sta anche trattando eventualmente con il Real Madrid proprio perché c'è Zidane in uscita e alla Juventus, insomma, avrebbe fatto una richiesta economica molto molto importante. Queste sono le possibilità che circolano, c'è chi però non esclude eventualmente la possibilità, seppur più remota, Simone Inzaghi, che sembra sia in uscita dalla Lazio, questo è quello che sta trapelando, attualmente Inzaghi non ha ancora rinnovato con la Lazio, ma per il momento, ragazzi, il nome più caldo sembra proprio essere quello di Massimiliano Allegri, e torniamo al vecchio Allegri, quando Allegri decise di andare via dalla Juventus proprio perché aveva chiesto alla Juventus di ringiovanire, di rinnovare ed è proprio adesso che la Juventus vuole fare questo. E quali potrebbero essere i calciatori indiziati a partire per, come dire, dare freschezza alle casse? Si parla ancora una volta di Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo che percepisce uno stipendio importantissimo e la Juventus sembra particolarmente disposta a rinunciare alle prestazioni sportive del calciatore guardando anche l'ultima di Serie A, Ronaldo non ha giocato, e si è visto che i calciatori, insomma, senza di lui si muovevano bene la Juventus ha fatto una gran bella prestazione certo, una sola partita per giudicare non è... non conta nulla Ronaldo è pur sempre il capo cannoniere di questa Serie A ma la Juventus deve alleggerire si parla anche forte di un addio di Paolo Dybala, ragazzi perché Dybala attualmente non è ancora rinnovato perché Dybala sta per andare in scadenza nel 2022 perché perderlo a zero sarebbe veramente una cazzata di quelle clamorose di conseguenza, secondo me questa estate, ragazzi, ne vedremo delle belle probabilmente uno tra i due, Ronaldo o Dybala, potrebbero partire se non addirittura entrambi questo potrebbe consentire alla Juventus di dar vita economicamente parlando a questa rivoluzione acquistando nuovi calciatori, magari un po' più giovani di livello più basso per riavviare questo processo di crescita quello che magari ha fatto l'Inter nelle ultime due stagioni e con cui nel breve e medio periodo è riuscita ad ottenere questi risultati io ve l'ho lanciata lì potrebbe anche restare Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus ma, ripeto, non escluderei il Massimiliano allegri di turno proprio perché, e lo dice Gianluca Di Marzio la Juventus vorrebbe puntare più sull'esperienza mi piace commentate, condividete iscrivetevi a tutti i miei canali i profili social di Instagram è tutto in descrizione e contenuti consigliati a voi la parola qui sotto nei commenti ragazzi miei ciao